Buongiorno, sono Stefano Dello Iaco e sono il direttore marketing dell'impresa B-Circle JIA dell'istituto tecnico di Orvieto. La nostra idea, la nostra impresa è nata quando la nostra ragazza, la nostra amica di classe, è entrata in classe con una borsetta fatta di materiale PVC, bullonato. Da questa borsetta a noi ci si è aperto un mondo e abbiamo deciso di realizzare una cintura in PVC. Questo PVC è un materiale completamente naturale ed analergico, infatti è fatto con olio di vino e iodio. Per la linea bambini è possibile applicare un GPS che sarà collegato con un'applicazione e ritroverà il bambino perso. Questa esperienza ci ha formato molto a livello collaborativo perché tra di noi ci siamo molto aiutati e comunque è una scoperta anche di se stessi prima di tutto e poi soprattutto della collaborazione con i compagni e con i professori.